Cari amici di Auto Occasioni, ben ritrovati con l'atteso appuntamento da Kia Torino 1, concessionaria ufficiale Kia Motors che ci ospita nella sede di Collegno Corso Francia 138, accolta piacevolmente come sempre da Enrico Brucato. Ciao, ben trovato. Ciao Palma e ciao a tutti voi. La gamma Kia è progettata per accontentare proprio tutti. Quindi sempre più modelli popolano le nostre strade per la tecnologia avanzata per il suo design accattivante e soprattutto per i suoi sette anni di garanzia a riprova della sua massima qualità. Ma oggi siamo qui per parlare di promozioni, per portare a casa la vostra Kia, partendo dagli eco-incentivi. Sono proprio qui e sono già arrivati. Gli eco-incentivi sono partiti, non sono tantissimi, quindi affrettatevi, numerosissimi qua in Corso Francia 138. Alcuni esempi delle nostre offerte del mese di giugno legate agli incentivi statali, ma non solo. Sportage, il nostro cavallo di battaglia, può essere vostro da 299 euro al mese. Avete capito bene? 299 euro al mese, comprensivo di assicurazione incendio e furto, totale parziale, cristalli, eventi atmosferici e grandine. E poi ancora, la nostra piccolina, la Picanto, può essere vostra con un canone piccolissimo da 89 euro al mese. E naturalmente non sono solo queste le promozioni attive, venite a scoprirle proprio qui nella sede di Corso Francia 138 a Collegno, dove oltre naturalmente alla vendita del nuovo e dell'usato che andremo a vedere tra poco, c'è anche una grandissima assistenza. Verissimo, la nostra assistenza è in via Tommaseo 62, qua a Collegno, vi aspetta per tutto quello che è la manutenzione ordinaria e straordinaria della vostra vettura. Grazie Enrico. Grazie a Tepalma. E io passo la parola ad Andrea Travelli, state con noi. E un benvenuti nella divisione usato di Kia Torino 1, partendo con una splendida Kia Sportage Diesel, vi ricordo che abbiamo sia dei diesels e di benzina, tutte vetture ancora in garanzia ufficiale del costruttore. Proseguendo su una Nissan Juke con impianto GPL sempre del costruttore, introvabile con 20.000 km, RAV4 Hybrid, ne abbiamo diversi colori, diversi modelli e diversi allestimenti, Suzuki Swift Diesel e proseguiamo con una bellissima Giulietta 1.4 Turbo 120 CV, GPL con pochi chilometri. Ford Focus ST-Line allestimento sportivo, turbo diesel, 1.5 120 CV, una introvabile Volkswagen Golf nella versione R-Line, pensate con soli 15.000 km. Bellissima questa 500 con questo allestimento in versione Cross 4x4 diesel con pochi chilometri, proseguendo su una nostra Kia Currents monovolume 5 posti, una Eco Sport nella versione Titanium, pensate con 23.000 km, tutto usato e selezionato che vi aspetta qui da noi, una Yaris con l'impianto GPL originale della fabbrica, proseguiamo ancora con un'altra Yaris Hybrid, anche questa molto bella, una Corolla Station Wagon diesel, ma abbiamo anche i benzini, abbiamo anche le versioni ibride ovviamente, una Mito, pensate con soli 27.000 km, macchina sempre per i giovani, simpatica, con la meccanica 1.4 77 CV, quindi anche utile per i neopatentati e concludiamo con un Nissan X-Trial 4WD, pensate con soli 12.000 km, pari al nuovo, tutto usato, selezionato che trovate presso la nostra esposizione, ne abbiamo tanto altro, possibilità di finanziamenti e di permuta del vostro usato. Benvenuti cari amici nel mondo Toyota, il brand leader mondiale per quanto riguarda la vendita e la tecnologia dei suoi motori e oggi siamo ospiti della concessionaria ufficiale, la più storica in città e provincia e siamo a Collegno, in Corso Francia 138, accolti da Filippo Tripi, ciao, ben trovato. Ciao Palma, un saluto a tutti e ben ritrovati. Quando parliamo di brand Toyota parliamo di un brand naturalmente garantito fino a 10 anni ed è l'unico brand a coprire con una garanzia fino a 10 anni, ma oggi siamo qui per parlare amici delle promozioni in corso per portare a casa la vostra Toyota, parliamo di eco-incentivi e di hybrid bonus. Esatto, Palma, eco-incentivi statali stanno per terminare, quindi affrettatevi, avete vantaggi fino a 10.500 euro grazie alla rotamazione e hybrid bonus Toyota. E se non abbiamo un'auto da rottamare? Vetture, chilometri zero e aziendali, tutte in pronta consegna con sconti fino al 30%. Una vastissima esposizione di prodotti e soprattutto una concessionaria che può offrire sempre il meglio nelle migliori condizioni di mercato. I finanziamenti sono tra i più vantaggiosi del mercato appunto. Toyota Easy, l'unico piano finanziario che potete personalizzare la vostra rata a voi più comoda e inoltre potete anche noleggiare grazie a Toyota Kinto One, il noleggio giusto per voi. Da Central Motors un modello per ogni tipo di esigenza e attenzione, abbiamo anche una grande novità. In anteprima esclusiva, solo a Collegno, in Corso Francia 138, l'auto più venduta al mondo di casa Toyota diventa SUV, nuova Corolla. Nuova Corolla Cross, praticità di un SUV abbinato a tecnologia hybrid, l'auto più adatta alle famiglie. Bene, venite a scoprire il mondo Toyota in tutte le sedi, non solo quella di Corso Francia 138, a Collegno che vi aspetta per l'esclusiva in anteprima nuova Corolla Cross, ma anche nella sede di Corso Giambone 33 a Torino, quartier generale, oppure Corso Ferrucci 24 e nella nuovissima sede di Alessandria, strada Pavia 43. Grazie Filippo, alla prossima. Grazie Palma, vi aspettiamo, mi raccomando, numerosi. E grazie a voi per averci seguito. Grazie a tutti.